Portovecchio, Portovecchio abbiamo incontrato Di Blasio, mi farebbe piacere, te lo manderò domani il messaggio che mi ha mandato, e Di Blasio, che è quello dell'Esteriang, mi ha scritto che finalmente abbiamo un interlocutore. Questo mi ha gratificato moltissimo, perché abbiamo aperto i documenti, lo studio che loro hanno fatto, che fra le tante cose per dire ai cittadini, quello studio è già a Dubai, consegnato alla banca di Dubai, tanto per capirci, perché come qualsiasi opportunità che arriva, come sono venuti da me per comprare i carciotti, come sono venuti da me grandi investitori che vogliono investire sul Portovecchio, per cui andiamo avanti, andiamo avanti, facciamo, facciamo, poi qualche pesce nella rete ci rimane.